Amici e amici benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con la Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Presidente, ben trovato a lei. Buongiorno a lei. Ci sono delle emergenze di cui discutere, sicuramente l'emergenza maltempo che ha investito l'Italia, che ha investito in due città che sono patrimonio della nostra cultura, prima Matera, poi Venezia, in modo parecchio rovinoso purtroppo. Noi ricordiamo sempre che lei, fin da quando era sindaco, parlava dell'importanza di quei lavori invisibili, quelli che si fanno sottoterra proprio per la prevenzione dei disastri ideologici. Ma credo che in queste ore, in questi giorni, siano emerse alcune vicende, una naturale e una industriale, che danno a noi stessi, al mondo, l'idea di un paese veramente in declino. Sono considerazioni amare che ci risparmieremmo volentieri, ma la realtà è questa. Le immagini di Venezia, sommersa dall'acqua, sono sulle prime pagine dei giornali del mondo, così come le immagini e le notizie sull'Ilva, un grande stabilimento industriale che si avvia verso la chiusura. Sono immagini sconvolgenti, ma che testimoniano di un paese in profondo declino, in grande crisi. Un paese che è incapace di affrontare questioni che vanno oltre le 24 ore. Totalmente incapace di programmare, di avere senso del futuro, di avere responsabilità nazionali. Venezia. C'è un paese d'Europa, un paese intero, che vive sotto il livello del mare, ed è l'Olanda. L'Olanda è riuscita a mettere in piedi un sistema di dighe tale da consentire a quel paese di affrontare condizioni ambientali drammatiche, difficilissime, e di essere uno dei paesi più ricchi del mondo. In Italia parliamo da decenni del Mose, delle Dighe, della protezione di Venezia. Poi arriva un'alta marea un po' più spinta e Venezia sprofonda nell'acqua. Abbiamo avuto la sensazione nettissima di un paese che non ce la fa più. Bisogna sapere che il danno, è stato rilevato su qualche giornale, che il danno che si determina con questa alta marea straordinaria a Venezia, il danno lo registreremo nei mesi, negli anni futuri. Non si ferma qui. La domanda ovvia, possibile che un grande paese non riesca ad affrontare il problema di una diga, quando l'Olanda ha affrontato il problema di un intero paese sotto il livello del mare. Il raffronto fra noi ed altri paesi d'Europa è davvero impietoso, a nostro danno. Sembriamo davvero un paese incapace di programmare il suo futuro. È una constatazione amara, ma... L'ILVA è l'altra faccia di questa Italia. Sappiamo tutti quanti che quello stabilimento è strategico. Sappiamo tutti quanti che c'è un problema ambientale da affrontare in maniera rigorosa a tutela della salute dei cittadini. Sappiamo che è un problema difficile, che bisogna trovare un punto di equilibrio fra queste due esigenze. La constatazione amara è che non abbiamo fatto niente. Niente. Ma davvero è impossibile avere una produzione industriale in una condizione di rispetto dei vincoli ambientali. Ma davvero è impossibile con le tecnologie moderne avere, come dire, delle ciminiere che non sversano per aria prodotti inquinanti, ma che siano controllate rigorosamente. Non c'è niente da fare. Siamo diventati un paese che non è in grado di programmare il suo futuro. Siamo persi nella politica politicante. La balcanizzazione del sistema politico italiano aggrava tutti i problemi nel senso che impedisce politiche di medio o lungo periodo. Qui davvero si campa alla giornata. La democrazia italiana, sempre di più, si rivela come un sistema istituzionale assolutamente incapace di decidere. Di decidere. Cioè di esprimere orientamenti chiari e di concretizzare le decisioni che prende. Non riusciamo più a decidere niente e quando sulla carta decidiamo non riusciamo a concludere niente. Che tristezza. Che tristezza. E tuttavia sono queste le immagini che dell'Italia arrivano al mondo intero. aggravando il problema di credibilità che ha oggi l'Italia sullo scenario mondiale. Non vedo neanche grandi speranze per il futuro, sinceramente. Le speranze sarebbero legate ad una classe dirigente dotata di qualità culturali, istituzionali, organizzative di grande livello. detto con molta sincerità non mi pare di vedere all'orizzonte persone dotate di queste caratteristiche. Ecco, ci sono anche altri problemi che si accalavano perché insomma è una manovra che già è difficile da effettuare da parte del governo, poi c'è un Salvini che annuncia una contromanovra da sottoporre in aula. Ma non lo so, manovre, contromanovre, sottomanovre. Quando li abbiamo visti alla prova del governo non mi pare che abbiano dato grandi prove. Se devo essere sincero le esperienze che danno fiducia e speranza oggi le troviamo qui e lì nei territori sicuramente non a Roma e sicuramente non nel governo nazionale. Le cose che incoraggiano che ci obbligano a sperare ancora per il futuro sono cose che vengono dai territori. da Roma sinceramente io non vedo segnali importanti. In più registriamo oggi in Italia un clima di imbarbarimento che è diventato pesante e insopportabile. La vicenda di Iliana Segre è un segnale, è una spia, è un episodio ma è un episodio di una gravità sconvolgente. Davvero si è perso il senso del limite dei valori umani fondamentali e qualche caduta su questo piano l'abbiamo registrata anche a Napoli e io ne approfitto per riconfermare la solidarietà dei cittadini campani e napoletani alla comunità ebraica, a Liliana Segre e la ripugnanza per ogni forma di antisemitismo, di razzismo, di violenza. La ripugnanza. Segnali, anche questi, di un paese malato che fa fatica a liberarsi di questa malattia. Ecco, i segnali di speranza arrivano dai territori, diceva giustamente lei. Noi grazie a Dio siamo in un territorio che i segnali di speranza ne sta lanciando parecchi. Quando si è insediato lei ha detto sanità da primato in pochi anni conti perfettamente in ordine lei addirittura alle stelle i livelli essenziali di assistenza fuori dal commissariamento. Beh, possiamo dire senza esagerare i toni che per quello che riguarda noi questo è il segnale di una svolta storica per la Campania. Questo era il principale obiettivo di governo che avevamo. Chiudere la stagione vergognosa del commissariamento. Questo significa davvero poter camminare a testa alta in Italia. Perché abbiamo dato una prova di efficienza, di rigore, di concretezza, di capacità amministrativa che non avrebbe dato nessun'altra regione d'Italia. Senza nessun dubbio. Lo dico perché questi obiettivi che abbiamo raggiunto li abbiamo raggiunti avendo il trasferimento più basso d'Italia di risorse sanitarie e avendo registrato negli anni passati una riduzione del personale sanitario di 13.500 unità. In queste condizioni abbiamo raggiunto questi obiettivi. avanti ieri abbiamo avuto l'incontro a Roma con il tavolo tecnico Ministero dell'Economia e Ministero della Salute che doveva pronunciarsi sul piano tecnico sul raggiungimento o meno da parte della Campania degli obiettivi necessari per uscire dal commissariamento. i due Ministeri hanno certificato che la Campania dopo dieci anni ha raggiunto gli obiettivi prefissati. È una svolta storica. E lo ripeto non è solo un problema la Campania questo è un segnale per l'Italia intera si può ancora puntare ad obiettivi ambiziosi a condizione che non ci si perda nella politica politicante nelle chiacchiere permanenti nel litigio permanente nella demagogia permanente nei tweet nel tempo perso nelle discussioni inutili le coalizioni le controcoalizioni tutto meno che la concentrazione ossessiva sui problemi e sulla soluzione dei problemi politici il governo della regione Campania ha adottato una logica politica completamente diversa da altre istituzioni noi non parliamo con le parole non parliamo non parliamo il linguaggio della politica politicante parliamo il linguaggio dei fatti che è l'unico linguaggio che viene apprezzato ai nostri concittadini ed è l'unico linguaggio in grado di parlare ai cittadini di centro di destra di sinistra a tutte le persone per bene al di là di ogni ideologismo e siamo orgogliosi di questo ormai noi stiamo viaggiando con una realizzazione a settimana in qualche caso con due tre obiettivi raggiunti ogni settimana a ricordo solo quello che è accaduto negli ultimi quindici giorni in Campania abbiamo aperto un nuovo reparto di ortopedia all'ospedale di Sorrento abbiamo aperto il distretto sanitario a fratta maggiore che era chiuso da Decee abbiamo presentato il programma per il recupero dell'ospedale degli incurabili a Napoli 100 milioni di euro stanziati dalla regione Campania abbiamo avviato i lavori all'ospedale Monaldi per realizzare un centro di cura per malati di SLA che sarà pronto per la prossima primavera abbiamo inaugurato il pronto soccorso ortopedia il nuovo pediatrico all'ospedale Santo Bono pronto soccorso pediatrico del Santo Bono fa 100 mila accessi l'anno il più grande d'Italia con una piastra dell'emergenza modernissima una camera bariatrica che non c'è in nessuna parte d'Italia per i bambini un lavoro eccezionale oggi abbiamo aperto a Giuliano centro di medicina legale ieri abbiamo firmato la riapertura del cantiere della Lioni Grotta Minarda 400 milioni di euro la regione si è fatta carico del problema cantiere chiuso da un anno ce lo siamo caricati come regione Campania per portarlo a compimento lunedì prossimo inauguriamo a Pomigliano il primo centro antidiabete pubblico della Napoli della Napoli 3 ieri ho partecipato ad Acerra alla inaugurazione di un oratorio finanziato dalla regione Campania il recupero di una struttura bellissima nella quale nella quale la chiesa di Acerra la Caritas svolgono un lavoro eccezionale di recupero di bambini di ragazzi a rischio avremo nelle prossime settimane nuove realizzazioni all'ospedale di Nola di Benevento di Avellino parte a brevissimo un programma culturale sulla città di Napoli di valore internazionale credo il 2 dicembre parte la mostra di Santiago Calatrava un evento di valore internazionale avremo Paolo Conte che canterà canzoni napoletane a San Carlo presenteremo a breve questo programma di iniziative culturali finanziate dalla regione Campania nel frattempo è stato approvato approvata la prima graduatoria del concorso per i 10.000 della regione Campania un lavoro immane ripeto la domanda retorica che ho fatto altre volte di che cosa parleremmo se non ci fosse la regione Campania politica politica politicante chiacchiere le coalizioni le controcoalizioni le sottocoalizioni e nessun riferimento ai problemi concreti allora questa è oggi la nostra situazione da questo punto di vista l'aver raggiunto gli obiettivi per uscire al commissariamento si presenta davvero come uno dei miracoli della nuova Campania noi siamo passati dalla Campania del nulla i 5 anni precedenti a una Campania che è oggi una regione rispettata in tutta Italia dal nulla a una regione leader in tanti campi e che oggi esce dal commissariamento il giorno 28 è convocata la conferenza Stato-Regioni che dovrà ratificare i pareri tecnici sulla fuoriuscita dal commissariamento dopo il 28 cioè il passaggio nella conferenza Stato-Regioni mando la lettera formale al Presidente del Consiglio per chiedere che il Governo nazionale ratifichi formalmente la fuoriuscita della Campania dal commissariamento che durava da dieci anni credo che possiamo cominciare a camminare a testa alta davvero ha fatto una rapida panoramica su alcune cose che andremo ad approfondire però intanto restando alla sanità c'è da dire anche un altro fatto importante che in un paese in cui molti hanno addirittura rinunciato a curarsi a un certo punto la campagna la prima cosa che ha fatto la sua aggiunta è eliminare il ticket regionale oggi i vaccini gratis per gli over 65 insomma è una campagna che tende dobbiamo dobbiamo fare qui una grande campagna per le vaccinazioni io rinnovo lo farò per tutte le prossime settimane l'appello alle persone sopra i 65 anni o in situazioni di rischio a vaccinarsi contro i rischi influenzali i vaccini sono gratuiti sono presso le strutture sanitarie presso i medici di famiglia davvero invito tutti i nostri concittadini interessati a vaccinarsi per tempo questo evita complicazioni garantisce dall'obbligo di avere poi ricoveri nei pronto soccorsi e ci fa fra l'altro mantenere la griglia a livelli elevati cioè la griglia dei livelli essenziali di assistenza le vaccinazioni fanno parte della griglia lea ma ricordo che cinque anni fa noi non avevamo neanche lontanamente raggiunto l'obiettivo delle vaccinazioni eravamo quasi sotto l'ottanta per cento cioè eravamo arrivati in una situazione di rischio per i bambini correvamo il rischio di morti di morbillo oggi siamo al 96 per cento di vaccinazioni per l'esavalente e il 94 per cento per il tetravalente è un altro segno di grande civiltà che va avanti e che ha comportato un impegno straordinario io ricordo sempre che abbiamo alle spalle le campagne irresponsabili dei Novax c'è voluto un lavoro tenace per arrivare a raggiungere questi obiettivi devo dire un altro dato noi siamo la regione che nel campo delle politiche sociali destina 106 milioni di euro per la popolazione non autosufficiente per le disabilità gravi per il dopo di noi abbiamo stanziato fonti per le associazioni che fanno il trasporto dei malati oncologici gravi presso gli ospedali cioè davvero nel campo delle politiche sanitarie e sociosanitarie noi siamo già diventati una regione di eccellenza una ragione di eccellenza dovremmo fare ovviamente ancora di più non è che siamo arrivati all'obiettivo ma già oggi davvero possiamo guardare al resto d'Italia al testa alta l'ultima cosa una curiosità prima della pausa pubblicitaria nel corso della riunione in cui faceva riferimento inizialmente sono state anche sbloccate le premialità 2016-2017 per complessivi 600 milioni in favore della campagna ora questi fondi potranno essere investiti come? Magari anche nell'edilizia ospedaliera o no? No questi sono fondi che si aggiungono a quelli per l'edilizia ospedaliera sembra sembra davvero un miracolo la campagna da 20 anni non utilizzava i fondi dell'articolo 20 e la vecchia legge che finanziava l'edilizia ospedaliera abbiamo ottenuto prima 170 milioni poi un miliardo e 80 milioni di euro abbiamo recuperato nella riunione di mercoledì altri 600 milioni di euro cos'è la premialità? quando si fa la distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale c'è una riserva che viene accantonata e viene distribuita a fine anno a quelle realtà sanitarie che hanno situazioni di equilibrio finanziario di correttezza amministrativa bene per anni la campagna non ha avuto un euro dei fondi della premialità abbiamo recuperato la premialità per gli anni 2015 2016 2017 300 milioni 300 milioni 300 milioni non so se è chiaro il miracolo che abbiamo fatto ovviamente non dobbiamo fermarci abbiamo fatto ieri mattina una riunione con tutti i direttori generali ho detto loro che devono rimanere concentrati sul lavoro e che possiamo considerare in qualche modo concluso il nostro lavoro non si conclude mai ma diciamo raggiunto l'obiettivo principale quando avremo raggiunto i 236 punti della griglia lea cioè quando saremo la prima regione d'italia e quando avremo un sistema sanitario completamente umanizzato cioè quando non ci sarà più in campania un solo cittadino che abbia una condizione di solitudine di abbandono di rinuncia alla tutela della salute e della vita questo è l'obiettivo di sostanza che noi abbiamo intanto prendiamo atto del miracolo che abbiamo già compiuto poi ne dobbiamo fare un altro per essere pienamente soddisfatti parliamo di lavoro parliamo del concorsone possiamo dire insomma ormai il lavoro avviato stanno per arrivare 3000 giovani tra laureati e diplomati nella pubblica amministrazione ovviamente l'obiettivo finale è quello di portarne 10.000 a lavorare alla fine bene bene ho raccontato in altre circostanze il calvario che bisogna fare in questo benedetto paese anche per fare un concorso è veramente un campo minato bene voi ricorderete che dopo la prima prova scritta stavamo aspettando che Roma approvasse la graduatoria per le categorie C e categorie D dopo innumerevoli pressioni abbiamo avuto l'approvazione della D e il lunedì prossimo ci dicono che approvano anche la categoria C questo significa che per la categoria D cioè i laureati a metà dicembre facciamo la seconda prova e per la categoria C a inizio gennaio facciamo la seconda prova questo significa che noi a gennaio manderemo a lavorare presso i comuni circa 3.000 giovani diplomati e laureati 3.000 3.000 giovani è la più grande operazione sociale che si sia fatta nel sud in un clima di trasparenza e di correttezza assoluta è la prima tranche del piano per il lavoro che punta 10.000 giovani da mandare a lavorare quindi noi subito dopo la conclusione di questo primo concorso lavoreremo per un altro concorso a vantaggio di quei comuni che non hanno partecipato alla prima selezione per motivi di dissesto finanziario per motivi di sfiducia non solo ma la prossima settimana pubblichiamo il concorso per 650 assunzioni da fare nei centri per l'impiego faccio fatica a immaginare un'altra regione d'Italia nella quale si stiano facendo queste cose è incredibile veramente incredibile c'è da essere orgogliosi una delle cose che mi sconvolgono di più quando sento capitato in questi giorni in queste settimane tanti sfaccendati della politica che non avendo niente da fare interviste contro interviste le coalizioni le prossime elezioni hanno cominciato un anno prima a parlare di elezioni tutti quelli che non hanno niente da fare e qualcuno che rappresenta il nulla assoluto vede la differenza anche quasi fisica fra due modi di intendere la presenza nell'istituzione la concretezza il lavoro il cambiamento della realtà gli obiettivi da raggiungere e la politica politicante le ciaccere le parole che non hanno più ormai nessun significato oggi per ogni cittadino italiano conta solo quello che si vede realizzato le parole di destra di centro di sinistra le coalizioni le bandiere di partito non riscaldano il cuore di nessuno più ma fanno fatica a capirlo o meglio fanno fatica a lavorare con questo metodo perché questo significa mutilarsi la vita per raggiungere gli obiettivi allora va avanti il concorso voglio vedere se riusciamo addirittura ad anticipare a gennaio qualche immissione nel lavoro ma insomma al più tardi a gennaio 3.000 giovani che erano destinati ad andarsene fuori dalla campagna cambieranno la propria vita rinnovano il frattempo l'appello ad Ampal la società nazionale per l'impiego la società del ministero del lavoro a procedere alla contrattualizzazione dei navigator non hanno più nessun alibi devo dire francamente che la sensazione che ho io è che siccome il governo non ha più neanche un euro non riescono neanche a racchiudere la legge e il bilancio stiano cercando di risparmiare i soldi francamente perché adesso non si capisce perché non fanno la contrattualizzazione la cosa incredibile comunque rinnovo per quello che mi riguarda l'appello a contrattualizzare in un contratto di consulenza parliamo di consulenti quelli che hanno selezionato due settimane prima delle elezioni europee se mi consente vorrei tornare un attimo ai fatti e quindi al piano lavoro regionale al concorsone appunto perché è importante fondamentale per i giovani che prima andavano via dalla campagna a cercare lavoro altrove ma è importante altrettanto anche per la pubblica amministrazione per svecchiarla per renderla più dinamica ci sono alcuni comuni che hanno dei voti in organico davvero imbarazzanti ma sono praticamente tutti comuni che sono in una condizione drammatica per quanto riguarda il personale poi ci si è messa la misura quota 100 una grande scienziateria dell'onorevole Salvini per aggravare ancora di più la condizione del pubblico impiego è evidente che un'immissione di migliaia di giovani laureati di diplomati con lauree nel campo giuridico economico informatico in tanti campi significa ringiovanire la pubblica amministrazione e portare nei comuni figure professionali che quasi non ci sono più oggi gli uffici tecnici sono completamente sguarniti trovare un informatico nella digitalizzazione la pubblica amministrazione un'impresa un economista abbiamo un'età media di quasi 60 anni anche nei comuni dunque è un'operazione che ha un doppio risultato straordinario cambiare la vita a 3.000 giovani e cambiare la faccia di 250 comuni che potranno lavorare in maniera più efficace l'altro obiettivo quello di accelerare sulle grandi opere semplificare le procedure sbloccare i cantieri per creare lavoro questa è un'altra delle sfide nelle quali ci siamo impegnati e che abbiamo vinto ma ricordo sempre che dalla precedente giunta regionale abbiamo ereditato su questo piano il disastro più totale avevamo solo per la circunvesuviana per l'EAB undici cantieri bloccati undici cantieri no avevano fatto nulla in qualche caso abbiamo preso in mano cantieri bloccati a dieci anni l'ultimo cantiere bloccato che abbiamo sbloccato anche qui fermo a dieci anni e quello della viabilità intorno all'interporto di Nola abbiamo rimesso altri 12 milioni di euro adesso abbiamo ripreso in mano era un cantiere bloccato da un anno la Lioni Grotta Minarda a dicembre dello scorso anno erano scaduti i termini per il commissario di governo e tutto era rimasto paralizzato operai senza lavoro imprese senza pagamenti ci siamo assunti la responsabilità di caricarci quest'opera anche perché quest'opera è finanziata per centinaia di milioni di euro dalla regione Campania e quindi abbiamo firmato un accordo per riprendere i lavori sotto la direzione della regione pagheremo gli stati d'avanzamento avremo lavoratori che tornano a portare il pane a casa sinceramente un altro miracolo un altro segno di attenzione per le aree interne per l'Irpinia è un'opera strategica questa perché è un pezzo del collegamento fra Martirreno e Mare Adriatico veramente è una cosa importante importante poi ovviamente abbiamo preso altre misure che riguardano il trasporto abbiamo approvato di nuovo la convenzione per consentire il viaggio gratuito ai membri delle forze e di polizia e un risparmio del 50% ai membri dell'esercito dei vigili del fuoco è un modo per avere una presenza attiva nelle forze dell'ordine anche sui mezzi pubblici in funzione della sicurezza degli utenti attendiamo ovviamente ne abbiamo parlato con il ministro De Micheli che sia fatto rapidamente il collaudo per altri sei treni che sono pronti nuovi all'Eav e che attendono il collaudo da parte del nuovo organismo che deve fare i collaudi fino a maggio era l'Ustif poi è cambiato e quindi fatto il collaudo del primo treno stiamo aspettando per gli altri sei ci auguriamo ovviamente che a Roma qualcuno si svegli ma come vede è davvero un programma gigantesco che è in atto tenga conto parlo sempre della precedente giunta regionale non era stato acquistato un pullman e un treno noi ne abbiamo consegnati già 24 di treni nuovi treni jets a treni italia e abbiamo un programma di acquisti le gare le abbiamo fatte quindi sono in corso di realizzazione altri 40 treni e complessivamente 900 pullman nuovi anche qui da zero dal nulla precedente giunta regionale al più grande programma di investimenti nei mezzi pubblici per i nostri concittadini in sede di giunta regionale sono state anche delle misure importanti altre le altre anche quella dell'emergenza cinghiali nelle aree interne insomma avete approvato beh guardi abbiamo affrontato questa che è diventata veramente un'emergenza preoccupante per gli agricoltori anche per la sicurezza stradale c'è una proliferazione incontrollata di cinghiali insomma sembrava un elemento di folklore invece è diventato un elemento che sta determinando danni seri per l'agricoltura e quindi abbiamo approvato misure per avere il contenimento di questa proliferazione di cinghiali ci attiveremo ovviamente sui territori nelle prossime settimane poi cominciamo a prepararci per il nuovo PSR piano di sviluppo rurale per la nuova programmazione europea grandi sfide che sono di fronte a noi ma insomma credo che tutto quello che abbiamo alle spalle ci consente di guardare almeno dalla Campania con fiducia e con speranza gli anni che abbiamo di fronte quanto di sfida che si lancia anche sul campo del turismo perché ci saranno eventi spettacolari culturali insomma tutta la regione tra novembre e dicembre lei faceva riferimento alla prima parte iniziale alla mostra di Calatrava per il 2 dicembre presenteremo fra qualche giorno il programma di iniziative culturali della regione Campania per Napoli e per la regione a gran parte per la città di Napoli ancora una volta mi domando se non ci fossero queste iniziative della regione di che cosa parleremo parliamo di eventi davvero di rilievo internazionali ne parleremo dettagliatamente in un'iniziativa fra qualche giorno ma ci tengo a sottolineare queste due chicche Calatrava 2 dicembre è una delle grandi firme dell'architettura contemporanea ma è anche un umanista un pittore uno scultore vedremo una chiesa a Rione Sanità arredata con ceramiche di Capodimonte avremo la riproduzione di crocifissi avremo dipinti sarà davvero un evento di valore internazionale e poi avremo altre cose davvero molto intriganti molto belle voglio fare gli auguri di buon lavoro a Marisa Laurito che ha assunto la direzione artistica dal teatro Trianon ha delle idee progettuali molto belle che ci ha illustrato qualche giorno fa avremo lì anche un centro oltre che una scuola di musica napoletana ma un centro permanente di di musica napoletana ha anche altre idee ho detto alla nuova direttrice che dobbiamo misurarci con le risorse che abbiamo ormai siamo a fine anno bilanci scaduti ma insomma cominciamo ad impostare il lavoro anche per i prossimi mesi anni vedrete che sarà un lavoro molto molto bello molto bello molto bello sarà anche le nuove installazioni spettacolari già delle lucide artiste 2019 sono già migliaia le prenotazioni insomma dei turisti ormai è diventato uno degli eventi classici della stagione turistica invernale avremo centinaia di migliaia di presenze come sempre credo che sarà sarà un bellissimo evento turistico ma anche di clima di atmosfera di atmosfera poi si registra ormai in questo periodo a Salerno davvero un clima straordinario qui si sente la festa si sente il Natale il Capodanno ovviamente parliamo di bellezza dell'arredo ma parliamo anche di economia perché se ti arrivano in tre mesi un milione e mezzo un milione e ottocento presenze ovviamente non tutte sono presenze lunghe ma anche la mezza giornata la giornata il fine settimana significa alberghi pieni ristoranti pieni significa un'economia turistica inventata dal nulla in una città che non è una città d'arte Salerno non è Napoli non è Roma non è Venezia non è Firenze che la cosa davvero singolare è che è una città che ha il boom turistico d'inverno essendo una città di mare ma credo che si stia lavorando anche per completare il ripascimento del litorale quindi un po' alla volta ci sarà una spiaggia di cento metri dal centro storico fino al comune di Ponte Cagnano e quella sarà una rivoluzione nella rivoluzione grazie a lei presidente buon lavoro grazie a voi per averci seguito appuntamento alla prossima settimana di Ponte Cagnano di Ponte Cagnano di Ponte Cagnano di Ponte Cagnano di Ponte Cagnano